La straniera, tra virgolette, della squadra, anche se è romana di Roma, no? Sì, romana di Roma, quindi italianissima. Anche se è di Capoverde, a quanto senti io? Originare delle isole di Capoverde, sì. Ok, tu sei la schiacciatrice di questa squadra. Anche l'allenatore ha avuto in settimana parole di elogio per te, per la partita che avete vinto a Cerignoli. Tu te la senti di dire che sei la leader di questa squadra? No, secondo me questa squadra, diciamo che abbiamo vari tasselli, che possiamo dire che siamo tutte un po' leader, quindi non mi sento l'unica. Molte di noi sono esperte e diciamo che piano piano stiamo crescendo insieme, stiamo creando tutti i vari meccanismi. A proposito, la tua carriera? Allora, io principalmente ho giocato sempre in B1 e ho fatto anche un anno in A2 a Soverato. Quindi questo è il primo anno che scendo in B2, diciamo. Ecco, conosci queste squadre che state affrontando, per lo più sono tutte pugliesi? Allora, le squadre no, perché appunto in B2 non ci gioco da tantissimo, però molte giocatrici quest'anno sono scese di categoria, quindi molte le ho incontrate e appunto quest'anno il livello si è alzato tantissimo. La prossima partita con il Villaricca, la prima squadra campana che incontrate? Sì, fino ad ora abbiamo giocato solo con squadre pugliesi e adesso incontreremo appunto Villaricca, che è una squadra, diciamo, anche questa è tosta, è una squadra che comunque è ben amalgamata, si conoscono bene e ha preso molti punti infatti. Un'ultima domanda, il tuo record di punti, di quant'è? In una partita? Eh no, il record, non lo so, una trentina.